La nostra presenza oggi nel Comune di Rivoli sta per rivindicare quella che è la nostra attività sul territorio, soprattutto stavolta nella prima cintura di Torino, anche perché la rappresentazione istituzionale in ambito metropolitano delle periferie è quella di un vero e proprio centro di sviluppo economico e sociale, per cui tutti gli interventi che noi finanziamo in prossimità di Torino questa volta si riflettono su quello che è il patrimonio, non solo istituzionale di un ente, ma di quello che è dei cittadini, per cui questa volta se ci troviamo in una struttura bella come questa, che è la città del sole, dove siamo circondati oggi da bambini, siamo in una scuola materna e proprio perché abbiamo messo in sicurezza l'edificio ci sono stati degli interventi di modernizzazione all'interno e chiaramente quello che viene fatto oggi qua sull'antico e che è stato fatto sul moderno in altre realtà, sempre contigui a Torino, è quello che noi vorremmo rifare l'anno 21, per cui auspichiamo che sempre più comuni partecipino ai nostri bandi e soprattutto il desiderio forte in presenza di risorse maggiori di ampliarci anche alla periferia ultraperiferica della città di Torino e di andare anche nelle zone rurali che effettivamente ne hanno bisogno.